Il 13 luglio torna Dall'Eccarici tra le stelle, protagonista la selezionata enogastronomia d'eccellenza con 13 aziende vitivinicole e due cantine ospiti della Romania. Degustazioni di prodotti eccezionali con i maestri del gusto e la straordinaria presenza di Simone Ruggiati, grande chef e conduttore televisivo. E ancora Corona Events, protagonisti di moltissimi eventi di caratura internazionale con il loro spettacolo Dreams. Sabato 13 luglio, tutti e Dall'Eccarici tra le stelle, la cultura del gusto, il gusto della cultura. Io mi sito e man mano accoglieremo le persone. Lo so, è di grado informale, è una retta circa. Vedremo anche, nel primo assoluto mondiale, il sunto selezionato dal regista. Abbiamo qua con noi il regista e il produttore, Giacomo Piumatti, il regista appunto, che ci hanno raggiunto da bravo. Faremo una chiacchierata come già l'anno scorso. È un privilegio per me poter riuscire a far riunire quelli che sono i Vigneron e le loro storie. Anzi, sto in piedi che non sapevo io. I Vigneron e le loro storie, i Vignaioni, per una semplice ragione. Il canavese, il territorio canavese, per fortuna ci sono, c'è di nuovo un credo molto forte. Il canavese nel corso degli anni, dato che la nostra cultura di carattere industriale, ha sempre messo da parte l'agricoltura. E adesso invece, da 10 anni, 15 anni a questa parte, c'è una grande riscoglietta. Data la crisi, ovviamente, ci si è guardati intorno. E finalmente siamo riusciti, sono riusciti i protagonisti a vedere le grandi potenzialità del nostro territorio. E io sono assolutamente contento di questo, perché l'anno scorso abbiamo parlato di Erbaluce, in questo incontro parliamo di Carema. Ma parlare di Carema vuol dire parlare di una situazione molto particolare, molto difficile, molto pura, e non potrebbe essere altrimenti, io guardo negli occhi e mi viene, perché di viticoltura eroica si tratta, di viticoltura di sacrificio, che può dare dei frutti incredibili. E la cosa incredibile è che questa sera, la prima volta, non abbiamo i miei Ferrando, papà e figlio, purtroppo papà non si sente molto bene in questo periodo, non se ne sentiva di venire, il figlio è via per un impegno a pregresso, ma abbiamo ovviamente l'altra grande protagonista, ossia la cantina dei produttori di Carema. Senza la cantina dei produttori di Carema, il Carema sarebbe scomparso già da tempo. E non avremo questa ricchezza, questo diamante nell'anello di questo territorio. E dicevo, il tema è lo scambio generazionale, ciò che è stato, ciò che è, ciò che potrebbe essere, ma la cosa incredibile è che il film documentario, il tema del film che sta girando Giacomo e termineranno le riprese in quest'anno, è sull'abbandono. Per cui adesso toccheremo con mano una realtà che negli anni è andata via via scemando e adesso finalmente, di nuovo, un respiro, un grande respiro, un potenziale grande respiro. Bisognerebbe produrre, se si potesse produrre 20 volte, il Carema che si produce oggi sarebbe già tutto venduto in prenotazione, più o meno, o sbaglio, è vero Viviano? Allora, io vi invito ad accogliere con un applauso il presidente della cooperativa, della cantina cooperativa di Carema, Viviano Gassi. Ciao Presidente, allora Presidente, tu hai portato due ospiti con te, chi sono? Beh, uno è il sindaco di me, che si chiama Vairos Flavio, ed è il mio sindaco, sindaco in fasce, ma già con la palpa, vedo che è già molto, e poi hai portato con te un personaggio che ha una storia non indifferente, è uno dei giovani della nuova generazione, giusto? Sì, a chi ti riprendeci? Ah, quel signore che è all'età di Francesco Muccini. Ah, ecco, che non è mio cognato, comunque è il personaggio storico, noi l'abbiamo il presidente, diciamo, storico della cantina di produttori, che noi l'abbiamo inficiato come presidente onorario, perché sono verità, va per il lavoro che ha fatto e noi lavoriamo ancora su quello che ha fatto lui, Luciano Clerini. Vieni Luciano, Luciano Clerini. Grazie a tutti, voglio fare due chiacchiere con questi tre personaggi, e devo dire che uno dice, in canavese la gente è sempre molto triste, non è assolutamente vero, questi tre personaggi sono persone che invece infondono veramente gioia e dall'alegria. e ve lo posso assicurare, la nuova generazione, io chiamo qui con me il giovane amico che ho visto crescere praticamente in quel diavria, è già protagonista l'anno scorso, non lo vedo, Vittorio Garda. Ah, ecco la cosa, vieni Vittorio, un applauso Vittorio Garda. Allora Vittorio, Vittorio, lavoro per l'inoteca regionale della Serra, per l'inoteca cantina, scusami, vado davanti, per la cantina cooperativa della Serra, che è una delle due cantine cooperative canavesanne, ne sono rimaste due. Vabbè, Carema, non Carema, Carema è cartina cooperativa, ma Carema è Carema, parlo dell'erbaluce, 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 arriva già in questa maniera, un giusto punto. E da quanti anni, Sorbasso? Da 2012 a prima vigna e da 2016 a prima. Per cui, prima bottiglia di Carema di un nuovo produttore con un piccolissimo pensamento, che hai portato con te, con gli altri due colleghi della nuova generazione di produttori? Beh, sono i miei due grandi amici che sono Gianmarco Uriano e Matteo Alpeano. Gianmarco Uriano, da Andrea, che non ha più la vera, la chiaverà. Allora, signori, sedetevi, sedetevi. E ovviamente, Marco tu vuoi parlare quando viene la console? Vuoi dare un benvenuto adesso? No, 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 come vuoi tu perché... Sì, lo so, allora, facciamo così, fai un saluto tu adesso. Allora, lo giustifico in partenza. Marco non dovrebbe essere qualcuno a noi, dovrebbe essere a casa, a letto, il nostro giovane sindaco. Marco Succio, perché ha la febbre a 39, vieni. Allora, a questo punto, sedetevi un attimo così, non ti faccio stare in piedi. Ti lascio il microfono e fai un saluto almeno. Sei tu che ospiti questa bellezza? Va, mi tiro, mi metto in piedi. Grazie, Daniele, per la presentazione e grazie soprattutto per aver messo in piedi questa bella serata. Canici tra le stelle, io riesco un po' dall'argomento perché chiaramente siete voi gli attenti ai lavori che ne parliate voi. Canici tra le stelle è una festa che nasce alcuni anni fa e ogni anno è sempre cresciuta. Questo momento culturale abbiamo introdotto lo scorso anno e devo dire che è stato un aggredo importante rispetto a quella che era la manifestazione che si svolgeva in una sola giornata. Credo che sia importante anche conoscere questi aspetti, queste piccole popolarità legate alla produzione del vino che chi non è un attento ai lavori come sottoscritto, come tanti di noi, chiaramente non conoscono e quindi questi momenti di approfondimento sono assolutamente importanti. approfitto per ringraziare e salutare gli amici che arrivano dalla Romania, che sono nostri ospiti, porteranno un vino ospite che potremo degustare anche questa sera, saranno presenti domani sera alla serata blu di Canici tra le stelle. e abbiamo con loro anche inaugurato questa novità dell'avere ovviamente tutti i vini locali e poi ogni anno da qui in avanti avere un vino ospite, quest'anno sono i vini che arrivano dai loro territori e sicuramente credo che un confronto tra le nostre produzioni e le loro, potersi confrontare e parlare anche se ne rapporti sia culturali che magari anche commerciali, chi lo sa è sicuramente un aspetto importante. Quindi io ringrazio voi tutti per la vostra presenza e vi ringrazio anche per averci ospitato nei vostri territori nel mese di marzo scorso. Direi che a questo punto io posso ritornarti il microfono, fra un po' arriverà anche la console a cui faremo fare un saluto. Grazie per la bella serata, ovviamente vi aspettiamo tutti domani sera a partire dalle 19.30 per il momento blu di Canici tra le stelle di Piazza Castello. Grazie mille. 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 Viviano, non è che io dico privilegio, perché sono gli uomini che fanno la storia e quando gli uomini si incontrano una storia migliore, a volte si scontrano, anche dagli scontri nascono dei bei fiori. Viviano, allora, per chi non è mai venuto a Carriera o per chi c'è già stato e lo ha, intanto voglio salutare che sta arrivando il presidente della strada reale dei vini della provincia di Torino, nonché Vigneron della Masera, Alessandro Accomotto. Grazie Alessandro per essere con noi. Allora, vogliamo raccontare, fare un escursus, saremo molto sintetici, un escursus, la storia della cantina, magari fra voi due che siete quelli che la storia la conoscono. Beh, lui sicuramente la conosce meglio di me. Ma se gli è politico. Tra l'altro, voglio anticipare una piccola cosa, lui è mio cognato, ma non... Hai sposato la parte bella della famiglia. Non si direbbe, ma è mio cognato. Non si direbbe, perché non si direbbe. Non la soffia a me. Lui sta facendo, sta costruendo un libro sulla storia di Carema, sul Carema in modo particolare, sulla storia della nostra cooperativa. Un libro che ha praticamente, possiamo dirlo, praticamente ultimato e che noi vorremmo pubblicarlo più presto. Perciò sarà motivo di un altro incontro. Perciò, questa sera, per presentare il lavoro che ha svolto, un lavoro molto importante, che ha un significato da un lato, ma può avere un significato ancora migliore, perché deve essere di auspicio per una continuazione, per continuare a lavorare su questo territorio, perché è un territorio molto particolare, difficoltoso. Ci sono tutti che dicono, la chiamano la cosiddetta viticoltura eroica. Secondo me è un tantino eccessivo questo termine, perché io comunque difficoltoso a discurso. Ah, molto. È una viticoltura. Allora, raccontiamo le vigne. Allora, le vigne partono dal fondo del costone, dalla base del costone. Era che sono 300 metri particolari, su fino a 600-650 metri. Una volta risalivano molto di più. Dobbiamo, beh, noi, la cantina di produttore di Carema è nata nel 1960, da un gruppo di persone che avevano già pensato all'opera, che se l'unico modo per continuare a fare la viticoltura, ma già allora, e oggi è la maggior ragione, l'unico modo di fare la viticoltura Carema era quello di mettersi insieme, unire le forze e procedere insieme. Ed è stata un'idea, un'idea. Quanti soci e quanti etterimitanti c'erano nel 1960? Allora, nel 1967, precisamente, quando è stata introdotta la prima docca, la docca, la doccarema, il primo rino rosso della provincia di Carema. Esatto, ricordiamo che in Piemonte la prima docca bianca è stata l'erbaluce di Caruso nel 1967 e la prima docca rossa della provincia di Carema è stata proprio il nebbiolo di Carema. Allora, sono stati iscritti alla denominazione circa 38 ettari di superficie vitata. Quindi una micro ma macro per il tipo di territorio. Beh, diciamo che sì, il problema era quello che allora c'erano di più, c'era di più di superficie vitata, però non tutti i viticoltori hanno iscritto i propri terreni alla docca per un semplicissimo motivo, avevano una certa ragione d'essere questa decisione, perché una volta si chiedeva il Carema nell'anno successivo alla vendegna, o quasi. Mentre le disciplinare dell'Oltre deva quattro anni di invecchiamento, più l'anno di vendegna. Perciò, chi voleva vendere il Carema, una bottiglia etichettata di Carema, doveva aspettare minimo cinque anni dalla vendegna della stessa. Perciò era una cosa, era terrorizzante la cosa per i viticoltori di allora. Oggi abbiamo una superficie, noi come cooperativa, abbiamo una superficie scritta appunto alla nostra cooperativa, lavoriamo con tutti gli effetti, una superficie di circa 14 ettari e mezzo, dai 38 uffici, dai 38 uffici. Quindi qui andiamo poi al discorso che approfondiremo storicamente del famoso abbandono. 14 ettari e mezzo e poi adesso sommati a quelli che stanno... Aspetta, tu Ferrando, che è tuo caro amico, mentre invece Roberto e papà, quanti ettari hanno? Ferrando hanno sempre fatto Carema, da quando siamo nati noi, ne fanno due ettari e mezzo. Casper, penso che sì, una cosa di questo genere. Casper. E poi adesso ci sono i nuovi che si stanno... E adesso invece... Conociando questo tipo di... Giusto per avere un'idea degli ettari a disposizione, tu Vittorio, quanti ettari hai? Ma produttivi sono meno di un entaro, al totale sono un entaro. Sto a tutto noi 7 mila metri produttivi è un entaro che dobbiamo a fine diventare. Tu Gianmarco? Esattamente come io. Gianmarco, scusi. No, Gianmarco, sì. 3 mila abitati in produzione e un 3-4 mila metri di piantine che è più una cosa speciale. E tu invece? Noi stiamo sui 5 litri di vigneto, un 3-5 litri di un 3-4 mila di nuovo impianto e un 2 ettari potenziale. Ah, quindi... Quindi c'è stato il nostro lavoro del settore, quello dei ricolti. Territorio del territorio. E adesso abbiamo tagliato a piante, tagliato a spigli. E stiamo iniziando a piantare l'idea di avere circa 3 ettari alla fine. Allora... Sommato? Quanto fa? 20 ettari? 22? Allora, tu mi hai detto che ne hai 14. 14. 2 li ha Ferrando su un 16. 17, 18, 20. 20. 20 ettari sui 34 che erano all'ora. Calcoliamo 34. Se ne erano di più, ma calcoliamo 34. Sì. Poi, non metto nei dettagli perché questo potrebbe farlo benissimo e meglio di me in un cianco, in questo caso. Perciò, a che regola? C'è un potenziale molto ampio. Quanti sono gli ettari possibili all'interno dell'Ordocco non vitati al momento? Beh, questo è un dato difficile da dire. all'inizio, all'inizio del 1900, c'erano circa 100 ettari di superficie vittà. Bene. Mi piange il cuore. E adesso una parte di queste ettari sono coperte dai costanni. Perché è un certo. Ci sono ancora i vignevi, perché se entriamo, entriamo adesso, sarebbe anche più comodo perché c'è una strada che sale fino all'alte maletto, che è lì, a 600 metri, che sale in mezzo a questi vigneti. Una volta quella strada lì non c'era mica. La facevano tutti con la gerda, spalle, spalle, avanti, con buba, su e giù, su e giù, di continuo. Adesso sarebbe anche più comodo, ma ovviamente sono appezzamenti molto piccoli. Per far capire quanto piccoli, noi per lavorare una superficie di 14 ettari siamo in 69 per la precedione. 69 sorgi che lavorano in una superficie di 14 ettari, che fa una superficie media vitata di circa aziendale, di circa 0,2 e qualcosa. 0,25. Perciò una viticultura, una gestione molto costosa. Allora, quali sono le difficoltà, proprio per le fisiche, i materiali, Luciano? Ma ce n'è più di una, ovviamente. Intanto l'economia carevese si è sempre basata non solo sull'agricoltura, ma anche molto sull'industria. Sull'industria, ovviamente. Soprattutto a fine della seconda guerra mondiale. Noi abbiamo sempre lavorato in agricoltura part-time, sia part-time con un lavoro industriale, sia con altri settori dell'agricoltura. Cioè, molta gente aveva sia l'agricoltemia, sia l'agricoltura. Certo. Per cui accaddeva a salvo poche eccezioni. Avevamo sempre un'economia di sopravvivenza. E cosa è successo? Perché tutti sono andati in fabbrica, in campo, tutto. E fino a quando ci sono stati delle tipologie di lavoro che lo consentivano, cioè le lavorazioni in tornaie, la gente tornava a casa, andava in campagna, invece di mettere la maglietta con il coperito e andare a giocare a tenis. E andavano in linea a zappare. Tendenzialmente la stessa situazione. Io non ho mai avuto la maglietta col cocodrilo, tanto per intendersi. Luciano, tendenzialmente la stessa situazione che si viveva nel Basso Canadese, la grande parcializzazione dei vitini dell'erbaluce. Sì, certo, certamente. Poi è chiaro che come il livello di vita si è alzato, i lavori più faticuri, più difficili, sono stati un po' abbandonati. E quindi abbiamo avuto questo abbandono del territorio in Tarini. Io mi ricordo, proprio perché ho l'età di cucini, come diceva il signore prima, che noi portavamo giù l'uva con le slitte, cioè portavamo su una slitta con delle ceste molto grandi e poi quando lo levavamo lì, ci andavamo nelle cantine con questa slitta. Quei vieni sono stati tutti abbandonati, anche se adesso, come diceva Viviano, ce lo sarà. Però, salvo Ravero, mi sembra che si chiami, no? È Matteo. che ha estirpato piano, eccetera, per il giorno di Ayrale, che conosco bene, su nell'area principale di Geri, ma questo non è avvenuto. E continua a esserci lo scoporlamento della... nonostante non ci siano assolutamente i problemi di vendita di vino. E questa è la cosa che dicono. E noi siamo ben contenti, questo ci tengo a dirlo come vecchio produttore, e vecchio socio della cantina, anzi, ormai, non so se come età, ma come data di appartenenza, sono sicuramente il più vecchio. Noi siamo ben contenti che ci siano le nuove eleve. Una volta ci accusavano che eravamo dei, così, di monopolisti, perché volevamo fare tutto noi, non c'erano altre etichette e cose di questo genere. Noi eravamo arrivati al punto di pensare che qualche socio ci sarebbe andassi via per mettere solo la sua etichetta, per poter differenziare un pochino il mercato. E poi dopo, evidentemente, non abbiamo mai fatto perché avremmo creato delle difficoltà all'interno del suo malizio. adesso che ci sono questi giovani, noi speriamo che loro vadano avanti e paradossalmente si affrontano di spinta anche a noi. Cioè non dobbiamo migrare, aver paura di questo. perché, per esempio, è uno di... delle cose che ci riporrono, sia il mio tipi, sia il mio operatore, sia anche... Sì, anche i... Sì, anche i... diciamo così... i clienti consumatori. è quello di dirci che lo facciamo pagare troppo poco. Io sto perfettamente d'accordo con loro. Però, tutte le volte che i nostri distributori pensavano di fare qualche cos'altro, con altri prezzi, di questo genere, sono sempre tornati indietro. E' cosa che noi non abbiamo mai voluto tornare indietro. Perché andare davanti un po' per volta si può. Tornare indietro è sempre un passo negativo. Quindi, ospediamo che con la nuova leva non solo si aumenta in prezzi, ma si aumenta soprattutto la superficie vitata. Perché Carriamani è nata per fare vino e non per fare l'altro. Ma certo, la superficie vitata, disponibile, e di più proprietari e non bisognerebbe fare, non bisognerebbe andare. Cioè, quali sono le difficoltà? Ad esempio, se Vittorio, o Matteo, o Zamaio, o qualcun altro, qualche canalesano che riesce a trovare un modo per avere cantina e fuoco, perché Carriamani si può fare solo a Carriamani, per la legge, vogliamo dirlo. Non si potrebbe fare altrimenti. Barolo esce da Barolo, ma puoi fare Barolo da un'altra parte, fuori dal territorio comunale. Quali sono le difficoltà? E se esistono? Se io domani decido, voglio investire un sacco di soldi, perché ho un sacco di soldi, e voglio fare Carriamani, qual è la difficoltà più grave? La difficoltà che si presenta subito a uno che vuole fare del Carriamani, che vuole in qualche modo investire su e sul Carriamani, trovare gli appezzamenti con una dimensione, uniti, esatto, perché sono stati appezzamenti molto piccoli, separati, con dei proprietari che si accavalcano, uno sopra l'altro. Cioè, perché dal suo metro devo girare quante famiglie? Beh, sul metro in certe realtà bisogna anche girare una decina di famiglie per riuscire a fare un pezzetto. Poi loro possono portare a fare testimonio, molte soldi di cose che sono i miei, ma adesso posso solo io, e sicuramente. Perciò quella lì è la difficoltà principale. Poi il problema è anche un altro, perché non è detto che io possa tranquillamente acquistare un vigneto abbandonato, perché magari non lo vendono, perché tanto, come si suol dire, né che mangia, né che vede. Sì, non consuma, non consuma niente, non ci sono spese, e piuttosto che vende. E piuttosto che vende non la sa niente. Esatto. Capito? Esatto. Perché fa parte proprio della mentalità dei carabinieri, della soltazione, che da una parte bisogna un po' dare il torto, dall'altra parte, effettivamente è un senso di appartenenza e in qualche modo sono anche giustificata. anche, certo, certo. Certo, certo. Luciano ha prima detto il prezzo del vino. Allora, io ho questo proposito. È una cosa che amo, amo dirla, perché, allora, lo ammetto, io sono nebbiolaro o nebbiolista. Non sono convinto, sono un estremista del nebbiolo, nel senso che proprio per me non esiste neanche il pino noir. Le emozioni che mi dà il nebbiolo è un gusto personale, ovviamente. Non me le dà nessun, e ho bevuto dei grandi pino noir, evidente, o dei grandi saggiovesi, e quindi dei grandi, dei grandi mini toscani, dei super toscani, eccetera, eccetera, eccetera. Come il nebbiolo? Non so cosa dire. E non è una questione mentale, è proprio di palato e di emozioni. Tra i nebbioli, io ho la mia classifica personale, e tra i nebbioli, il mio nebbiolo preferito, e voi mi direte, hai un palato rozo, o anzi, un termine che a Viviano non piace, barbaro, e io vorrei ricordare che qua, noi eravamo centi, eravamo salassi, eravamo una famiglia barbarica prima della regola di Romagna, ma la barbaricità ha una sua eleganza, e le emozioni del Carrema, in particolare, dal 70 in qua, dal 70 in su, io ho bevuto il 67, il 69, il 70 l'ho bevuto, grazie a te, vini che possono durare cent'anni, seriamente, ma quando lo bevi, insomma, non c'è emozione che nessun barolo mi abbia dato sinora, neanche delle pecchie bottiglie di Borgogno, qua ci sono molti sommiglieri, e sanno di cosa sto parlando, ma cosa succede, che mica solo io la penso così, il racconto di Fernando, ti ricordi due anni fa, la faccio breve, c'è un grandissimo importatore di vini statunitense, se non vado a un altro di origine orlandese, la famiglia importa vino, da quando New York si chiamava New Amsterdam, ossia dalla fondazione, ha bevuto tutto il bevibile umano, tutto quello che è stato prodotto nel mondo, quell'uomo l'ha bevuto, ebbene, durante un'intervista gli è stato chiesto, qual è il vino che lei porterebbe su un'isola deserta, e lui con grande calma e saggezza ha risposto, cara signorina, io non ho più l'età per andare su un'isola deserta, parliamo dell'ultimo calice di vino che vorrei bere, mi dica, e uno si aspetta che ne so, un Neceso, un Romane Conti, un Chateau Marco, un grande svizzero, perché poi qua la gente pensa che in Svizzera non si facciano grandi vini, i grandi vini svizzeri sono sempre nella top 10, no, un Carema, dirò anche l'anno che ero il produttore, un Carema 1982 di Carvalho, io sono assolutamente racconto con lui, ma dove ci metto il 90 della Cantina Cooperativa, viene detto da un internazionale, il vino parte da Carema, va nel mondo e assume più valore di quanto valore gli diamo a noi, sempre, sempre, per fortuna, sempre di più c'è valore nel Carema, ma va nel mondo e va a giocare alla pari con gli altri grandi vini del mondo. noi abbiamo venduto per la prima volta, penso di non essere smentito da Luciano, ma l'ho visto sui libri di Gerbalho, abbiamo venduto la prima partita di vino in America da un signore che si chiamava, si chiama, Thomas Abruzzini, nel 78, abbiamo venduto 6.000 bottiglie dell'annata 73 e 6.000 bottiglie dell'annata 74. Questo è la prima partita che Carema è uscita non in Europa, ma è uscita oltre l'oceano in America. in America. Mi viene in mente, io ho imparato molto due anni fa, ho avuto il privilegio di collaborare con il Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell'Erba Luce di OCCI del Carema del Canavese e sono stato invitato a una degustazione molto particolare due anni fa a Carema e ho conosciuto delle cose quante e male del 50 e male del Doc, esatto. Allora, fino al 1970 il Carema era un blend, ossia si mettevano insieme i vini, non le Uber, i vini, corretto? No? Fino all'84. Fino all'84. Fino all'84, chiedo scusa, chissà perché mi sono focalizzato su quello. Si facevano dei blend. Dall'84 in avanti è diventato proprio mono, ossia si fa quel lavoro ma bisogna spiegare un tantino che viene questa cosa. Esatto, e poi io volevo arrivare all'arrivo di Gaspare, che purtroppo non è potuto essere con noi qua, di Boucher. di Boucher. Ma questo ve lo spiego in generale. Ma perché siamo stati quelli che hanno fatto arrivare Gaspare Boucher? Boucher. E tra tutti spieghiamo chi sia Gaspare Boucher. Ma ci avevo subito. noi avevamo dato l'incarico di vendere quasi in esclusiva a una società minanese che si chiamava SMU, Società di Nabilizzazione Pini. E formavano questa società dei grandi nomi del vino. Mergalli, Gaviglion, Bollis, Bertolotti, tutti i grandi dell'attività del Vecchia. E loro erano venuti a Carema e avevano visto la potenzialità ma ovviamente non mi era piaciuta come si faceva il vino. E hanno detto il tecnico se non mi dispiace ve lo portiamo a voi. E venne questo Gaspare Boucher che all'epoca andava da grande e fece tantissimo per dare un estremista contestatore e lui era sempre prima di tutto. Comunque lui è riuscito a far pianificare in un certo modo a far tenere l'igiene in cantina in un certo altro modo. Ricordatevi che uno dei difetti più grossi che aveva in Carema era quello di diventare l'aceto con estrema facilità. Ma perché? Perché l'acqua in cantina a Carema non poteva entrare. neanche per lavare le botte tant'è che quando si riscuotavano le botte le si puliva con uno straccio poi dopo si ripulivano con un altro straccio pulito imbevuto in vino buono e poi dopo si metteva lo zorro verso il forale. Ma in questo vedeva la tradizione perché vedeva la tradizione e soprattutto molte volte si metteva addirittura dentro una scodella con il vino buono e che poi si ripirava per risanare cioè la scodella del vino buono per risanare. Cosa ne usciva? Ne usciva che certe volte si impregnava in acido acetico e prodotti di questo genere che era un po' c'era. Ovviamente lui prima cosa si è impedito assolutamente di fare questo lavoro e di fare entrare l'accia e ce l'ha fatta con il vincere. Ce l'ha fatta sì e ci ha convinti tutti insomma. Per cui diciamo che è stato un grandissimo innovatore è stato con noi per 35 anni e poi ha fatto anche grandi sperimentazioni sì 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 ha fatto grande sperimentazione il niente legno ad esempio sì ma quello meno quello meno e passare da meglio più grande al meglio più piccolo questo sicuramente sì e provare con le barricche e poi vedere come andava poi addirittura voleva benificarsi qualche cosa lui da parte perché a noi eravamo dei buoni che non pagevavano mai bene e lui è un frigolano frigolano di quelli tostic di origini siciliani però per cui doppiamente tostic e quindi ci ha intirizzati su un modo di lavorare che sicuramente è servito poi insomma lui aveva le sue idee il mercato ne aveva delle altre eccetera eccetera e quindi noi molto sempre con amicizia è il momento di cambiare dopo 35 anni non c'eravamo la pensione poi sono cambiate anche le tecnologie sono cambiate le tecnologie ma lui soprattutto secondo me è una cosa personalissima aveva un grosso difetto che lui oltre che a sapere che cosa bisognava fare voleva costruirsi le attrezzature per cui si faceva lui le attrezzature erano sempre dei prodotti perché poi alla fine nel campo dei tecnici lo chiamavano non più le tecniche ma lo chiamavano del meccanico quindi una sorta di alchimista meccanico di alchimista meccanico però voglio dire un grazie a tutti noi di giudore in effetti quando ho organizzato il 50ennale della doc la luce ha la ricordanza io la prima persona grazie a grazie a grazie a che me la consiglia è stato proprio tra i tanti chiamare gaspare che ha portato il suo ha degustato tutti gli alba luce e poi mi ha guardato e mi ha detto insieme ai due esofisti americani inglesi e mi ha detto certo che l'erba luce adesso è un grande vino e questo non può che farci piacere siamo giunti stiamo andando mi state annoiando no vero stiamo andando avanti andiamo adesso voi cominciate a sentire i giorni e poi vado vado dal sindaco allora partiamo da da Gianna allora chi è chi fra voi tre ha iniziato chi è che ha preso per primo il carrello tu lui Matteo 2016 2016 2016 tutti e tre insieme ma cos'è avete usato le stesse sostanze stupefacenti senza mettersi d'accordo raccontaci raccontaci come è andata ma intanto racconta chi sei gli studi da dove vieni quanti anni quanti anni hai che è importante mi chiamo Don Marco sono dell'86 quindi ho 23 anni ancora 33 anni ma la mia storia insomma è un po' particolare perché io ho fatto un sommelier quindi ho fatto un sommelier di riscolanti stellati per sette anni ho giocato un po' l'Europa e l'Italia e a un certo punto per esigenze di stile di vita di famiglia ho dovuto provare a saccarmi da quell'ambito sempre cercando di rimanere dentro della mia passione per me e ho fatto un piccolo escorso come sommelier all'interno di una sola delustazione a Parola e da lì poi pazzicando un po' in cantina mi sono sempre più appassionato da parte della produzione avevo puntato da qualche anno Carema perché era non so un gioiello incastonato dove da 50 anni c'erano due produttori sicuramente era un posto dove ci poterà essere il potenziale e perciò ho preso la mia prima vigna 500 metri di vigna in una zona difficilissima dove c'è un sentiero a piedi insomma non proprio un'emizione facile e da lì ho capito un po' la vigna la produzione di vigna era un po' e tutta la mia persona che questo è un po' come si dice che molto è Pichu che era amore sottile o più vorrei ricordare che il termine Pichu è identificativo di un folle tradotto è folle e poi in quel quarto vittoria troppo ci potete con il mio Matteo e alla fine la cosa che è bella secondo me è che nessuno di noi ha fatto lo più solitario ma insomma abbiamo collaborato c'è chi ha trovato linee che per me io ho trovato linee che per altri magari in posizioni più comode quindi è ancora che accadeva il problema è la comodità per raggiungere la linea si come dice l'altro il problema è che ci troviamo magari in tre ad avere i piccoli pezzi vicini quando magari uno potrebbe avere un pezzo più grosso assieme uno un pezzo più grosso quindi a volte è successo davanti però è successo quasi un assunto di scambola pari dove per comodità ci siamo trovati così comunque tu sei uno di quelli che hai dovuto girare dieci famiglie per andare a prendere i pezzettini ma io ho avuto fortuna perché sono andato la vendemmia nel 2014 in vendemmia ho chiesto a gente che vendemmiava si sapeva di voler qualcuno la buona miglia e ho avuto il numero di una persona a cui purtroppo era mancato il papà che seguiva la vigna e da lì è cominciato anche a piano insomma magari in freti vietro ti dicono ma guarda che c'è un altro vigneto che che lasciava anche almeno adesso ci siamo orsi stati a 7000 metri si è territorio il problema nostro sicuramente è che questo è un lavoro domenicale di sabato quindi più di questo in questo momento è difficile davvero fare quante bottiglie dunque tu sei a che vendemmia imbottigliata? a quattro 15-16-17 che si imbottiglierà adesso perfetto quante bottiglie che ne hai prodotto? la prima annata erano 700 la seconda 1000 e quest'anno 2017 sarà 1250 1250 come si chiama la tua azienda Fabiano? Monte Maletto Monte? Maletto tu hai grandi vecchi li conosci entrambi lui sono il ministro di Sottolita invece che avevano il tuo abbraccio con il territorio e con le persone del territorio da giovane che vuole arrivare e provare a fare qualcosa che arriva come è stato? devo dire che siamo stati abbastanza forti ma anche in particolare perché ho trovato gente parecchio disponibile sicuramente è difficile per noi soprattutto che c'è il sindaco di Carema perché la nostra difficoltà davvero è andare a intercettare i proprietari di niente io avevo scritto una lettera da ieri l'altro anno cui purtroppo non ho avuto risposta però davvero sarebbe un servizio utile che ci fosse una sorta di sportello comunale dove io ho un bosco dico che ho un bosco e chi è interessato alla posizione di questo bosco per ristrutturazione di vigneti possa accedere a questa sorta di database in modo che ci sia un contatto perché noi non siamo di Carema quindi può neanche essere più difficile entrare all'interno del tessuto sociale però è davvero difficile perché c'è un bosco bellissimo la posizione fantastica ma andare a trovare i proprietari è proprio molto difficile in certi casi non è un proprietario unico magari un pezzo indiviso che ci sono dieci proprietari in magari 250 300 500 metri le misure sono quelle la realtà noi ragioniamo i centimetri quadrati non i centimetri mi ha provato come si fa di trovare un pezzo della sanità del tasto dieci proprietari penso che intorno anni 20 30 alcuni deceduti altri che dove sono quindi una ricerca che diventa forte ci sono delle possibilità è molto bello come idea riuscire a prendere un impiegato prende un professionista non metti via lavorare per un bel po' di tempo e riuscire a fare questo database non sarebbe male non sarebbe male tra l'altro adesso c'è stata una vendita di un privato che ha ceduto il comune adesso è proprietario comune per sentito dire all'inghieri questo il sindaco precedente sta facendo dei lotti suddividere questi pezzi per poter vendere io potrei essere interessato perché ho acquistato un pezzo prima tre pezzi dopo ma mi mancherebbe ancora quel piccolo rettangolo per completare un appezzamento che dopo sarebbe già da 2300 metri quadrati quello non è quello che rimane che è pieno di rovi misurerà 250 300 metri quadrati Matteo Matteo la leva dacchia buonasera a tutti teno un po' più distante non si sentite meglio Matteo stai in presente sono Matteo io ho avuto una formazione quanti anni hai quest'anno 38 38 ma riporti mica ma le sere che ti ho contato intanto ti tengo a dire che non sono solo io nella mia avventura caramese perché la mia è una società che conluco con altre due persone che non sono potute venire questa sera e sono un supporto fondamentale perché come loro hanno detto il lavoro è tantissimo gestire tanto il lavoro da soli è molto pesante gestirlo in tre è molto pesante c'è un'altra cosa che si piacca quando si fanno le cose e si fatica o passa il tempo un po' più facilmente ci sono anche lui di Alessandra nella mia avventura con i quali grazie ai quali ho iniziato perché io ho avuto una formazione di tutto altro genere l'università studia filosofia sono specializzato in altro progetto culturale ho fatto un po' di ricerca 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 e sì la vita c'è sempre stata perché l'avevamo in casa per me per il sito era un nonno per cui si andava nella vita mi hanno imparato più o meno guardando a fare ecco andavo a pasticciare anche una separata però sono quelle come dire avventure che uno vive in un determinato momento della vita e che ti sentono tra grande e per sempre è rimasta la passione ho iniziato a mandare avanti la vita del nonno quando mi è mancato mentre queste piccole attenzioni che verranno la situazione si verranno praticamente tutto è roba luce ma è fuori dalla dioce sì una situazione un po' particolare e niente poi per i casi della vita avrei dovuto andare a vivere e lavorare a Parigi ho deciso che non era la mia strada e ho cercato un modo per rimanere nella terra in questo obbio sostanzialmente e sei canale d'esame è un canale d'esame sì i famosi esempi addirittura non riesco tanto a capire il canale di pio a me piace non è proprio perfezionale a passare la serie ma dove finisce la serie inizia la montagna insomma e Carema ci ha detto diciamo ho iniziato un'attività cioè un'azienda meticola con Vigna Palazzo Pidrone dove faccio un osso una bua luce e poi sono entrato in contatto tramite un amico con una persona di Carema che aveva delle litie che avrebbe voluto dare qualcuno perché non ce la faceva più a starci dietro e da solo non mi sono sentita di affrontare anche questa avventura perché chiaramente già lavori migliore al giorno con un altro lavoro per riuscire a stare dietro un'azienda faremo il tempo finisce banalmente e allora grazie a questi due soci che si sono venuti a me ho deciso di affrontare questa nuova avventura che è stata un pochino fare vigna e intanto fare boscaioli hai detto poco fa quanto praticamente nell'ultima non lo stai passando di sposcano sostanzialmente adesso mi ha presentito però mi ha passato un po' di inverni con Montesega più che con le forbici quello sì diciamo che in totale c'è con quarto e vigna vecchia e il resto dei terreni sui tre che almeno che abbiamo sono dalla vigna appena piantata fino al pascolo per gli asini perché abbiamo tre paschi che ci tengono puliti degli appiazzamenti che siamo riusciti a ripulire e che non abbiamo ancora avvisto cultura per cui c'è anche quel problema e nel frattempo nel frattempo tu gli sbosti ma puoi crescere eh sì perché sei dietro alla stagione della vigna eccetera e ritorni e sei da capo allora questa è un trovante delle soluzioni fortunatamente ma secondo me cosa di dire fortunatamente io credo che a Carema alla fine spezia una donna per i paesi di Caragos sicuramente c'è una forma di comunità che è ancora migliore e sicuramente è pieno di persone con i loro teresi e le loro idee con magari anche un trastus con l'altra però che hanno un amore diciamolo per il loro territorio e quello che noi abbiamo trovato sono state solo porte aperte pure arrivando da forestieri diciamo siamo stati ben accolti noi sì per rinunare abbiamo due e tre in un po' che penso sia un unico in Carema qui sopra l'Aerano e lì dentro c'erano 15 anni di Italia c'è una casetta la casa era un patto con i dettagli per capire sono 80 metri quadri cosa è successo anche l'Aerano nell'800 900 eh non po' una c'è figlia ma la facevano eh è la miseria che fa quello sì anche il padre divideva un parte divideva sempre il mazobuso non c'era e quindi il padre aveva poco magari aveva parecchi figli lì e quando morì quando siamo infatti è tutta l'uomo tanto spero avere qualcosa io dicevo c'è una comunità che viaggia ancora non so le notizie magari non si vanno a cercare la chiega come una madre piuttosto qualche vicino o un po' piazziano o al guarda il paese non so per noi sono state molto utili alcune persone che abbiamo conosciuto e che effettivamente ci hanno detto la mano ma dicendo il telefono io quello lì perché so che è a suo nonno che coltivava là ti presento perché chiaramente andare a bussare come l'ultimo degli sconosciuti o venga presentati da un altro paese c'è un altro appello diciamo e quello che ci diciamo noi è che abbiamo avuto forse la giusta distanza nel senso che si veniva comunque da paesi vicini si spiccica una lingua abbastanza simile a quella parlata in loco e non siamo il vestitore che arriva la pista dove quindi riusciamo a percorrere magari anche questi sentieri siterranei e allo stesso tempo non facciamo parte però delle vendite dei paesi direttamente se si può dire così siamo dei nomi arrivati quindi non c'è il nonno che avrà fatto quella o quell'altra e quindi magari questo tipo di vita devo dire soprattutto le persone che abbiamo incontrato perché al momento non abbiamo avuto nessunissimo tipo di problema e anzi un sacco di aiuti poi come questo abbiamo questo pubblico nel senso che se qualcuno ci ha chiesto una mano non siamo stati primi a andare a sbattare eccetera e soprattutto all'airal dove abbiamo il grande dei nostri terreni sicuramente una perdonami l'airal è il giusto per loro perché l'airal che zona è della terrenata allora l'airal è la frazione di carema in alto si è a mezza costa sono più o meno come carema semplicemente la precede a livello di che è un po' più a est di carema è un po' primo l'airal è il paesino che c'è di fronte all'uscita del casetto di coincimenti dall'altro l'azienda l'azienda come si chiama? l'azienda si chiama Chiusuma da dove viene Chiusuma? Chiusuma è il confine di carema il torrente che scende a confine dell'airale e noi abbiamo una serie di terrazze circolari concentriche che affacciano direttamente sul torrente per starbiondano nel più siete anche voi nella quarta vendemmia? siamo a carema la tarda bottiglie prodotte bottiglie prodotte 1250 mi ha fatto 1000 litri di vino il primo anno del 2016 17 sarà uguale con il 18 incrementiamo bottiglia perfetto dopo ritorniamo da te è la volta del mio fratello in Cogliardia Garda allora Vittorio tu sei omologo non ricordo male dottorai eh dottorai sì sì ma sei laureato anche bene ma ha detto questo se un uomo deve avere un cero possiamo dire a tutti gli affetti e un giorno qualche anno fa mi ha detto io non ho ancora assaggiato il suo vino giusto per capire a quanto ci tengono se lo tengono lì nascosto perché io sono anni che mi dice devi assaggiare il mio carema devi assaggiare il mio carema io non so ora che faccia abbia della bottiglia proprio ma questo lo fa a vostra perché lui è di una confraternita con gli armi che contro cioè siamo nemici da sempre proprio come essere della Juve del Toro allora Vittorio come ti parte la follia di carema e la passione io non so se ragazzi voi due guardavo loro guardavo loro due mentre voi parlavate ci guardavamo negli occhi ci veniva anche un po' di groppo alla bolla ma quello bello quello bello si vede nei vostri occhi si legge la passione questa cosa poi non si fa per nessun'altra ragione non si fa senz'altro per soliti questi scordatevi quando riesci a pagarti le spese inizialmente tanto ma si fa per passione e questo è un modo per presidiare il territorio da adesso anche per le nuove generazioni e loro possono essere di esempio adesso arrivo da te mi viene solo da dire una cosa è una frase che ho sentito giuro non l'avevo mai sentita prima ed è molto bella non so chi l'abbia detta l'ho trovata su facebook a volte su facebook si trovano delle cose interessanti questi aforismi questi pensieri ai giovani i giovani non vanno riproverati ai giovani bisogna dare l'esempio e io trovo che loro tre nella loro vita mi hanno fatto una scelta matura io mi invidio ve lo dico è un pensiero personale un'opinione io li invidio perché loro stanno facendo quello che ho voluto fare io trent'anni fa trent'anni fa perché il pino alla fine lo vedi un po' come fare l'ingegnere quel ponte lì l'ho fatto io quella casa lì l'ho fatta io le vedi le cose che fanno sembra poco ma è una cosa è una cosa incredibile io invidio gli artigiani io sono un uomo di parole ho fatto l'attore l'autore se non avessi chiamato quelle tre quattro cose non mi vedrei ma tu chi se ne frega tu non lasci niente parole che vanno nell'aria quando arrivi alla fine io che amo il vino e che conosco i tanti mignaioli in tutta Italia e quando arrivi il giorno della vendemmia e lo metti lì e lo metti a balla non lo tieni lì e dice questi sono i miei figli qualcuno qualcuno Rinaldi Ciprico diceva la traduco in italiano perché diceva a me che parla mi è più cara una bottiglia del mio barolo di mia figlia chi conosce Rinaldi chi conosceva di me tra di noi Ciprico diceva la verità perché noi banalizziamo il calice di vino quando lo beviamo spesso volentieri io non ho un elemento quotidiano lo beviamo come beviamo spesso volentieri ho visto bere il vino come bere la Coca Cola e invece dietro ma va in te stesso no 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 ci mancherebbe altro sono un antiimperialismo neanche a Prasquero è piuttosto predo del bicarbonato ma dietro ogni volta che voi alzate un calice di vino e lo osservate in trasloce Alessandro ne beve tanti dietro ci sono ore 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 giorni giorni mesi di lavoro di lavoro di sudore di sacrificio di saccaccio folle a volte anche di coppie che scoppiano a volte di famiglie che si distruggono c'è lavoro lì dietro ci sono le ore della nostra vita esattamente come un prodotto agricolo come una delle tome di Matteo Viva che è il senso rete tra poco che fa l'affinatore tentiamo a banalizzare i nostri gesti quotidiani e dietro invece c'è vita ore di vita e personalità perché poi il carema che si fa in copertina sarà diverso dalla cantina del sorpasso sarà diverso dalla piossuma esattamente come un parolo l'erbaluce ogni erbaluce è diverso dall'altro perché dentro c'è il carattere la personalità e le scelte del produttore Toyo Vittorio sorpasso come ti nasce questa idea e poi mi spieghi anche il sorpasso perché so che ti piaceva di noi vai ma innanzitutto la mia azienda non è solo mia ma di Martina di Giorgio che cambia compagno che è la giunfone sì Martina da Martina di Vittorio è la giunfone è il mio supporto quotidiano è il pirastro il vendiale e da quando sono piccolo che mi piace il vino sì quello che ho conosciuto avevi 18 anni e siamo appena per me c'è la sua passione e certo quindi l'ho sempre cominciato solo di fare vino e quello che poi fondamentale ho sempre fatto in maniera vita ho studiato vabbè quello ok ma è fatto è vero che ho cominciato con i bianchi è verissimo perché ho sempre fatto il Valuge però non so essendo utile i miei primi vini i miei primi appassioni sono stati i vini che mi faceva passeggiare mio nonno che aveva una grande appassione della ranga ma a me che viene più dietro e quindi questo è sicuro il sorpasso è un'idea mia di Martina noi abbiamo cominciato nel 2012 con i primi vini che abbiamo affittato e le prime due annate non l'abbiamo modificato perché quando parti da ebrea per andare a carema a carema piove poi torni indietro c'è il sole a casa non vai su continua a piove e quindi il morale è un'idea di non l'idea 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 questa cosa fuori dal territorio della doc di carema come fuori dal territorio della diocese dell'erba luce in questo caso nella mosso c'è questa possibilità cioè fuori da carema è nebbiolo e una delle una delle doc una delle doc è canavese nebbiolo che è nebbiolo in purezza come canavese barbera e barbera in purezza come barolo e nebbiolo e anche nebbiolo esatto come nebbiolo e anche nebbiolo ma come ad esempio però bisogna specificarlo per i mini canavese il canavese rosso invece disciplinare molto ampio e uno mette quello che è arda la barbera alla bonarda anche altre volte del nebbiolo ovviamente e quindi abbiamo cominciato poi perché necessariamente dovevamo trovare un luogo per verificare se volevamo in carema e anche perché non nego che da dei primi anni in cui abbiamo cominciato notavamo che comunque questo è un vino che è sussitano interesse che non è differente io credo che di tantissimi difetti che sono i giorni di oggi perché siamo carichi di difetti non ci manca la voglia di lavorare sovente insomma però una delle qualità che abbiamo è che non siamo proprio stofinissimi quindi è logico che andiamo a cercare qualcosa che veramente possiamo costruire un progetto grazie al quale crescere le nostre famiglie e questa secondo me è una cosa fondamentale per il futuro e è per questa ragione che abbiamo avuto fortuna anche se poi alla fine e non credo una fortuna credo nelle capacità che ci sono le persone perché i progetti li fanno le persone e abbiamo trovato una casa dai radio che potevamo fare vivere insieme e fare la nostra cantina che era una casa molto vecchia fino di 800 però ci siamo fatti due anni veramente difficili però è una fidata perché invitiamo e facciamo di nuovo lì dentro questa cosa dove eri difficili perché non è contare tutto ma è difficile e poi poi è banale però quando apri un mutuo non è una cosa semplice i lavori fissi non sono tantissimi precari li abbondano ma lo dice la parola stessa però secondo me in tutti noi tre ma commentatissime altre persone che ho conosciuto in questi anni sai un'idea nella testa la raggiungi e la storia che abbiamo legato alla nostra azienda è quella di Esopo fondamentalmente è legata al nome della nostra azienda che è il nostro passo e il nostro simbolo della favoletta il nostro simbolo è la tartaglia perché non importa quanto vai forte è importante aggiungere l'obiettivo questo è il nostro la nostra filosofia allora parlando delle 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 perdon per delle di di quante bottiglie produttive avete prodotto ma allora 2014 600 bottiglie no 500 2015 circa 800 2016 1200 1300 2017 1600 2018 è stata la grande annata non so crederemo intorno ai 2000 questa è una annata di merda quindi penso per tutto penso per tutti questo è un francesismo giusto per pochi anni ventenni purtroppo arrivano anche eccetera ora volevo dire una cosa ma secondo me non ovviamente tutti quelli che sono seduti qua e molti di quelli che sono seduti tra il pubblico c'è una responsabilità incredibile che spesso ci dimentichiamo che la forma dell'aumento che è quella simbolo della viticoltura di carri di mani bravo sì bravo è una forma di elevamento che arriva da lontanissimo e queste non sono parole mie sono parole di un mio amico che mi ha fatto riflettere mi ha detto questa è archeologia e perdere questa cosa vuol dire perdere un patrimonio che secondo me va ben oltre quello che è patrimonio dell'UNESCO ma fa parte proprio del nostro nuovo DNA e quindi abbiamo la responsabilità di gestire questo patrimonio che ha più di 2.000 anni spiega le particolarità ma intanto tra l'altro questa si è stata delle grandi responsabilità dal punto di vista paesagistico l'allevamento del carema com'è fatto? spiega voi ci sono famosi piloni ma sì l'allevamento del carema è un allevamento che tradizionalmente non è l'anticae ma l'orizzontale l'allevamento orizzontale prevede che la vita debba sostenersi tramite un sostegno che la carema è sempre stato costituito da due materiali che sono quelli più facilmente reperibili a carema il legno di castagno che è abbondante a carema e le pietra che anche esse sono abbondantissime e quindi questi due elementi creano il supporto per la vite che ha questa caratteristica di essere correre lungo questa perdola correre e questa forma dell'allevamento è unica in tutto quanto la maviticolo mondiale che ha tra l'altro secondo me non vado nei dettagli che ammoglierei tutti però ha delle qualità fisiologiche legate a come la vita reagisce con questa forma dell'allevamento unica è molto attuale soprattutto per cui vogliamo sempre solo vedere della pietra e non del cemento io questo lo dico perché poi veniamo io e la valerie dei presidi slow food veniamo con i mitra a tutti gli effetti vero valerie anche perché questo non lo sapete molti di voi almeno non lo sanno il carema è l'unico vino presidio slow food è l'unico al mondo a tutti gli effetti non è l'unico sì però in Italia gli altri eroici gli altri eroici siete in tutta Italia e vi assicuro entrare a far parte del presidio vuol dire senz'altro avere un'attenzione maggiore da parte del movimento e quindi di tutti gli associati e quindi di una comunicazione però poi alla fine è quello che accade nella comunità e tra l'altro sono i migneti tra i più belli da visitare da camminare soprattutto perché amano la montagna dobbiamo dobbiamo stringere andiamo a vedere qua anche io dopo di che avremo il saluto ci ha raggiunto l'abbiamo aspettata ci ha raggiunto la consul di Romania che dopo saluteremo perché andremo a chiudere appunto con i nostri amici rumeni abbiamo ancora dieci minuti per dedicare al carema con loro io ci starei ci starei altre tre ore perché tutte le aneddoti che mi piace Luciano ha delle storie da raccontare meravigliose Luciano ci potrebbe da raccontare per tre o quattro ore oh sì tranquillamente ma io credo che potremmo dedicarci io vorrei fare una serata intera cioè fare proprio una serata di racconto e di video e di racconto credo che potrebbero essere da fare iniziamo di 9 io approfitto dell'occasione prego per dire che quando prima Miliano hanno stato che io stavo scrivendo un libro ho scritto un libro per dire il libro mi sembra una cosa un pochino eccessiva perché intanto giocare ma i due interessati in Italia e quindi di sicuro non mi voglio sovrapporre ma di certo io voglio scrivere qualche praticamente l'ho scritto un opuscolo che raccolta tutte le cose che hanno circondato la vita di Carina dal momento della costruzione della cantina in poi e non arriverà in ogni ordine perché non aspetta bene a scrivere le cose che sono la storia di oggi niente storia di oggi ma fino a dove io fino a un grado operativo sicuro sì e il racconto posso dirlo adesso l'ho messo in premessa e io non ho la cultura di chi può scrivere i libri in una certa forma però credo di poter raccontare le cose in maniera abbastanza complessibile e quindi mi sono portato l'idea di essere dato che no non lo so di essere di fronte ai miei nipoti di raccontare la storia e così l'ho scritta e quindi ci saranno delle forme letterarie che vedesse la mia professoressa italiana probabilmente mi direbbe guarda che sei partito con io hai finito con noi ma ci sono i correttori di corso ma io non vorrei neanche andare no ma lo facciamo evitare la sua food editora magari ci fai il gerumore che tra me è carino ma tra l'altro Luciano le nuove generazioni non vogliono nient'altro non hanno bisogno che di storytelling adesso si dice in inglese lo storytelling il contare storie se voi siete qua perché avevate voglia di sentire le storie e adesso ascolteremo anche la storia dei nostri amici per andare a vedere questo incontro che ahimè il tempo è il tiranno abbiamo Giacomo Piumatti Giacomo Piumatti ve lo presento vieni Giacomo intanto vorrei fare un applauso a queste persone Giacomo Piumatti praticamente l'ho adottato come un nipote più che altro perché almeno io posso dirvi tutte le cose che suo padre Gigi non gli può dire Gigi Piumatti è con noi è arrivato da Braga uno dei soci fondatori di Slow Food è il tempo che fu fate un applauso a Gigi Piumatti per noi io qua vedo le generazioni io ovviamente io ho 30 anni meno di Gigi sono due generazioni diverse non è un scherzo Giacomo Giacomo Piumatti documentarista già sono felice di averlo vuto ospite anche a questa della cinema di Cagliari che co-organizzo e sono scusate sono un anno e mezzo circa di lavoro o sbaglio per ti passi il microfono ce l'ho grazie da quanti anni stai girando questo film molto di più molto di più mi presento sono Giacomo mi ci ho presentato Daniele sì la lavorazione c'ha da due anni e mezzo che stiamo lavorando su questo progetto più per colpa mia che per questioni tempistiche essendo un film completamente autoprodotto purtroppo ha le sue esigenze perché scendere perché scendere Carema cosa ti ha colpito e quali sono le storie che hai voluto a Carema ci siamo arrivati tramite Baderi che è citato Baderi da Reganio vecchiorino donna di Slow Food Canave San Donk vive più a Branche altro però adesso in canavese comincia ad avere una bella importanza alla sua presenza è una delle ragazze preziose una delle nuove generazioni che sta aiutando questo territorio e dal punto di vista agricolo tu cura quindi dei vari allevamenti che dal punto di vista della comunicazione del territorio grazie a Baderi io premetto che il vino non ne capisco nulla nonostante la tradizione familiare ma mi interessano le storie umane le storie delle piccole comunità soprattutto quelle che si avvicinano di più alle montagne non si vede dalla stazza ma o è pratico alpinismo o pratico mountain bike o comunque sport montani però poi ogni tanto ho queste digressioni fisiche ma tutte le storie che fanno parte dell'ambiente montano mi interessano qualcuno la storia di Carema mi interessava soprattutto per la verticalità del territorio e soprattutto per questo argomento non è che racconto l'abbandono io racconto la resistenza anche se in termini che ormai bisogna dire a bassa voce però racconto racconto la resistenza di persone le tre persone sono raggiù sono orgoglioso di presentarvele sono Mario venite e Oreste venite grazie che sono tre carenesi dopo e loro sono veramente i chiamiamoli partigiani di Carema Oreste c'ha il fisico quando dicevamo della barbarica eleganza Oreste c'ha il fisico proprio da gran travagliatore ecco loro sono loro due sono anche lui è stato operaio a Livetti tu sei anche operaio quando lui quando usciva da lavoro lui quando usciva da lavoro non vanno a sedersi in stantivano o al bar a bere il caffè ma vanno in pigna e si fanno un discreto culo lui finisce il suo lavoro a lavora da rosta finisce e va a lavorare nelle sue nelle sue linee li metto qua scusate siccome va a lavorare nelle sue a me è interessata questa storia qua mi è sempre interessato il binomio lavoro in fonderia lavoro in fabbrica lavoro e poi un altro lavoro bravo perché il lavoro disumanizzante nel quale non ti identifichi ma è il famoso la professione alimentare e poi invece la vera passione che fa sì che io possa portare avanti la mia identità chi sono che la vivetevi tutti i giorni e lo faccia con orgoglio poi alla fine in sintesi questo è sbaglio a me interessava la passione che sta dietro a questa storia di loro di passione mi hanno da mettere perché per uscire da lavoro e andando a lavorare diventa sicuramente una passione assurda volevo solo fare un'ultima un'ultima frase volevo vabbè dire che c'è il produttore qui Fabio Mancari di Staff Film aspetta ma il produttore si intende che sta tirando fuori soldi fate un applauso alzati alzati fate vedere e adesso vi mostrerò una piccolissima anteprima in un estratto di otto minuti di quello che poi sarà il prodotto quando lo spediamo il film finito? eh allora adesso c'era un discorso con me e Fabio in macchina e vorremmo sfruttare un po' l'argomento natalizio per l'uscita di questo quindi nel periodo di Natale vedremo il film di alla fine che è che il ah ecco sì giusto abbiamo Fabio mi ricordo da un'argomento molto alto diciamo sì l'Arman Olmi Romini di Dio non capisco il nostro riferimento è stato Armando Olmi da Romini di Dio il suo film sulla Valtellia che racconta appunto la viticoltura eroica noi abbiamo preso un po' spunto da lì però abbiamo raccontato storie che secondo me sono anche diverse perché appunto quello è il lavoro della vigna qua invece è proprio una passione ed è anche una lotta contro questo bosco infatti si chiama Vino di Confine non solo per il confine tra la Val d'Aosta e il Piemonte ma è proprio un confine che si nota a me è successo di notare anche solo dall'autostrada il confine che c'è tra il bosco e le linee questo bosco che loro spesso dicono sta venendo un parecchio giù sono una domanda voi tre voi fate il Pino per casa vostra o siete afferenti della cooperativa? non lo lasciamo oggi di la cooperativa tutti e tre sono c'è della cooperativa di Calema perfetto vogliamo vederlo allora? prego signori prendete posto voi fate che c'erano la mia sede poi chiudiamo con i nostri due sindaci la console io lo dico la mia amica Elena hanno potuto vedere come la situazione del Carema verticale difficile questi tre uomini hanno una passione incredibile afferiscono alla cartina coperte vieni 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 signor sindaco adesso chiamo con me anche il mio sindaco la passione la passione è l'unica cosa che può far sì che tu faccia questi sacrifici sia piccoli che veloci la passione è l'unica cosa che può far sì che tu faccia questi sacrifici volentieri non diventano neanche sacrifici è vero o no? alla fine uno lo fa per piacere di farlo e poi quando la cooperativa è in bottiglia quando si sta a fare una bottiglia si assaggia e dice questo è anche il mio qui ho sbaglio è così andiamo a chiudere andiamo a chiudere io vorrei rifare un incontro sul Carema perché le storie di raccontare sul Carema sono tantissime gli abbiamo solo gli abbiamo presentato alcuni dei protagonisti Viviano cosa vogliamo dire? ma che ce ne sono tantissimi altri di persone giovani e meno giovani che stanno facendo per passione questo ruolo ma sempre Carema è Carema perché c'è la passione c'è la tenizione c'è il territorio c'è un territorio da mantenere ricordo le parole di Didier per rispetto di coloro che ci hanno preceduti noi siamo obbligati tra le due a continuare questo tipo di attività è una cosa molto importante dobbiamo convincere i nostri figli i nostri nipoti a continuare a fare questo tipo di attività perché alcuni anni fa abbiamo festeggiato i 50 anni se non c'è un ricambio generazionale non festeggeremo più i prossimi 50 cioè i 100 perciò bisogna puncare nella mente dei nostri ragazzi questa passione questa dedizione questa voglia di mantenere il territorio che come direbbero i francesi è un tesoro un gioiello una meraviglia di giù sei ottimista però vero sindaco appena eletto giusto un sindaco in fascia ti ritrovi con una responsabilità non indifferente come primo cittadino di questo comune vero indubbiamente come dicevo sono meno di 60 giorni però 65 anni ho vissuto la carema per me questo incontro è stato anche formativo molto formativo vissuto come cittadino anche come piccolo come lo era come se avevi tutti i carimenti carema ha vissuto nei vari periodi il mio compito chiederebbe chiede anche di aver conoscenze nei secoli e quanto ho visto già 500 anni fa fu un vino in città nella storia la cantina anni 60 io credo che i gomini i nati che la creavano eravamo nel periodo del vino economico industriale si prende e si portò avanti in realtà è importantissima quanto vedo adesso i giovani che ho trovato qui e credo che la conosciatura che hanno non è che l'abbiano fatta su qualche litorale o su qualche sentiero di montagna ma ti vedo spesso e volte per il paese ancora prima questo è un carico ti faccio un grande augurio da quanto riguarda è tutta l'amministratore monale sicuramente sensibilissima di questo è un gioiello e cercheremo di custodirli di questo questo è un'altra cosa perché quello che più da me gli occhi di queste persone vuol dire che i semi sono buoni e vengono gettati in un bel terreno come il nostro sindaco io ho scelto di vivere la strada da lì nel 2000 oramai sembra ieri ho detto se torno in canavese non torno nel mio paese di origine dove sono cresciuto fino ai 12 anni la mia famiglia è partita ma voglio tornare nel centro del canavese e a lì centro del canavese io passavo le mie notate in giro in cerca del fantasma di gozano era un romanticone però sono ancora riuscito a baciare una ragazza avevo 18 anni 19 anni sono riuscito ancora a baciare una ragazza dove davanti alla villa Meleto nel famoso casottino la palafitta che era ancora intatta era intatta costruita con materiali depredibili ahimè l'incuria la mancanza di attenzione o comunque non è neanche un peccato quello che è avuto in quegli anni perché ci sarebbero voluti tanti soldi per che cosa per una cosa che però io ce l'ho fatta e ne sono felice quindi ho scelto di venire in la strada e poi ormai sei anni fa ho conosciuto Marco per la prima volta io non faccio vita sociale da via perché sono sempre via e quando abbiamo parlato di calci allora di stelle il mio privilegio è stato quello di dire va bene voglio fare qualcosa per il paese dove abito e quando mi ho parlato dei contenuti per cambiare quella che era una amministrazione che non esisteva più lui ha avuto lui l'amministrazione la prologo non c'è stato bisogno di nessuno sforzo hanno detto possiamo fare qualcosa di buono per il nostro territorio tutto è migliorabile la nostra manifestazione sta crescendo ma il fatto di invitare i produttori di evoluzione l'anno scorso di avere a voi anche a rena potrebbe essere la butto lì l'inverno è sempre molto lungo e a volte a metà settimana non so neanche cosa fare se non a pioccarsi davanti al telecomando e allora io ti ti ho detto pensiamoci a fare degli incontri come questo durante l'anno è più bello un po' come raccontarsi le favole e le storie quando fuori fa freddo per incontrare gli uomini che stanno facendo grande questo canavese nel mondo del baluncio nel mondo dell'agroalimentare i trasformatori i produttori voi che la direste è una cosa del genere mi piace o non mi piace anche perché sono i conti che non prevedono l'enorme sforzo organizzativo che un paesino come questo fa ci sono tante di quelle brancia tante di quelle belle teste se no non si riuscirebbe a fare quella piazza così come viene fatta ma dobbiamo chiudere e finalmente accogliamo la nostra deliziosa hostit la la console generale della romania il nome di battesimo prima voglio andare a vederlo Ioana Georgisch l'ho pronunciato bene piacere piacere prego piacere grazie a tutti stimata donna primaria gentilissima signora Vistor egregi ospiti innanzitutto vorrei congratularmi con tutti coloro che hanno fatto possibile questo evento che penso che può essere un inizio per il scambio tra i nostri paesi perché so che il primo evento con dei ospiti della romania noi siamo molto fieri e contenti e vi ringraziamo di nuovo penso che sulla base del partenariato strategico consolidato tra i nostri paesi la romania e la repubblica italiana possiamo costruire tanto la nostra comunità qui nell'Italia è grande un milione e duecentomila molto bene integrata nel tessuto economico sociale e culturale culturale e economico fa pensare anche ai vini a noi tutti piacciono i vini non sappiamo tutti quanto è stato esposto qui oggi ma abbiamo voglia di imparare e di provare possiamo fare tanto insieme e noi siamo aperti come istituzione come comunità e come imprenditori grazie a tutti per più presentiamo le cantine corretto Elena vieni con me fate un applauso a Elena allora Elena vogliamo raccontare chi sono ai nostri italiani chi sono i nostri ospiti di questi galla romini ma certo buonasera a tutti vi presento prima per tutti quanti i miei coerzionali mi conoscono sono Elena Lister sono io progettista un ufficiale nell'alba di europrogettisti uno dei 70 unico o meno e sono orgogliosa ero uno dei 70 registrati nell'alba di europrogettisti e così con questo è il mio impegno per dire così di europrogettista mi hanno contattato dall'armonia e avevano bisogno di di un scambio no di gallo di tra i gallo e poi ci siamo arrivati al sindaco e quando io ho tornato da pochissimo tempo da due anni quasi sono andato dal sbio chiamato al telefono al sindaco e ho preso un'occasione che è questa che mi chiamo sicuramente gli ho spiegato in poche parole quello che avevo bisogno e ha colto abbastanza è stato molto aperto a tutto quanto e poi gli è piaciuto la proposta anche perché si tratta di una proposta di reciproco non da una sola parte da tutte le parti di crescita che è un parteneriato transnazionale qua e qui siamo arrivati a portare per la prima volta questa manifestazione delle cantine della Romania una delle cantine che assente dei loro proprietari però sono gli altri quindi rappresenti che si chiamano consumare inizio con lei perché gli altri sono già presenti qui ha come superficie piantate di 1190 ettari di piante su quale 60 ettari di consumare sono sul rosso la visione per il rosso e 130 sono per il bianco hanno i migliori etnologi che vanno a provare i loro vini hanno partecipato a vari piere dove sono stati medaliati se che in un secondo non è un ordine di premio come sono stati solo di presentazione sono Corcovam che è infatti sindaco senza sapere per dire così la loro storia li ha invitati qua siamo stati da loro in un cambio infatti sindaco di Corcovare qua rappresentare la cantina di 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 90 ettari di di vite dove sono 80% sul rosso e il 20% delle piante sono sul pen bianco e non di meno sono la nostra cantina di ostro che loro sono grandi non sono industriali però producono come industria che hanno intorno ai 2000 ettari di piante fanno circa 50% bianco e rosso sono nella zona vicino dove finisce il danubio nel mare il mar nero hanno un'esperienza di attrazione nel vino dal periodo di traian non adesso quando era quando allora esperienza italiana diciamo come sempre girando girando arriva a tutte le parti è stato così Italia è stato un paese conquistatore allora probabilmente anche adesso abbastanza pacifici a quei tempi diciamo che erano abbastanza pacifici quando hanno messo le basi di collaborare tra i due paesi e queste sono le nostre cantine presenti che poi dopo vi invitiamo adesso a degustare però anche domani sera saranno con dei prodotti ancora di più diversi stati di quelli che sono presenti qua perché hanno portato abbastanza tipi di vino io non intendo tanto di loro tipi di vino per poter essere assaggiati grazie io ringrazio i nostri ospiti ringrazio Giacomo Piumanti per averci portato questo piccolo assaggio vorrei ringraziare la disponibilità del console che ha conto la nostra ultimo minuto che ci sono di che questa settimana si è stato e il giorno dopo quasi ci ha dato già la risposta gentilissima e molto pronta a essere presente con noi grazie questo è molto importante voglio salutare appunto Giacomo Piumanti voglio salutare i nostri ospiti della cantina cooperativa il sindaco il neo eletto sindaco di Chiarema i protagonisti del film di Giacomo e poi ovviamente Gianmarco Viano dove è? E' colorato giù Matteo la vera che è là e poi il nostro Vittorio Garda per chiudere ovviamente lascio il microfono al nostro amatissimo sindaco grazie Daniele ma io sono niente del tutto prima quindi non ho assolutamente niente da aggiungere e soprattutto vorrei darvi più tempo per andare al rinfletto che ci aspetta quindi non mi resta che ringraziare a tutti ringrazio ovviamente la console per essere con me stasera ringrazio i produttori di Carema il collega neosindaco di Carema che ho avuto il piacere di conoscere questa sera la delegazione della Romania e ovviamente tutti gli ospiti rappresentanti dell'amministrazione comunale rappresentanti di altri comuni grazie a te Daniele perché come sempre hai saputo rendere speciale una serata e ti ringrazio tanto ti aspetto ovviamente domani sera grazie a te e mi raccomando e poi voglio ringraziare anche Matteo Villa perché Matteo è un maestro del gusto è un maestro affinatore di formaggi ossia formaggi prodotti in Valchusel acquista da questi margari dagli allevatori acquista tutta la produzione poi nel suo piccolo cavò li venderebbe dei gioielli che stiamo per andare a degustare impagnandoli con i vini romani e con il nostro carino a domani grazie di essere stati con noi che bevete una luce e che bevete carino il 13 luglio torna dagli calici tra le stelle protagonista la selezionata enogastronomia d'eccellenza con 13 aziende vitivinicole e due cantine ospiti della Romania degustazioni di prodotti eccezionali con i maestri del gusto e la straordinaria presenza di Simone Ruggiati grande chef e conduttore televisivo e ancora Corona Events protagonisti di moltissimi eventi di caratura internazionale con il loro spettacolo Dreams sabato 13 luglio tutti ed alie a carici tra le stelle la cultura del gusto il gusto della cultura Grazie a tutti